Il raddoppio dello stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha scatenato un'autentica bufera politica. L'emolumento del numero uno dell'Istituto di Previdenza è passato da 62.150.000 euro annui. L'Inps ha smentito la retroattività. Durissima la reazione del centrodestra che chiede le dimissioni di Tridico, critiche anche dalla maggioranza. Il Premier Conte si è detto ignaro della vicenda e in attesa di chiarimenti. Intanto ieri ha annunciato che quota 100 non sarà rinnovata. I dati sul coronavirus in Italia hanno segnato un leggero calo del numero dei positivi che ieri sono stati 1869. Il Comitato Tecnico Scientifico intanto ha espresso parere negativo alla riapertura, seppure parziale, degli stadi. Resta senza soluzione il nodo legato ai tamponi e ai certificati di avvenuta guarigione. Per gli studenti il personale scolastico di rientro nelle aule dopo la malattia. Come annunciato Donald Trump ha nominato la 48enne super conservatrice Amy Coney Barrett quale nono giudice della Corte Suprema. La ratifica passa ora al Senato con la procedura di rito che dovrebbe iniziare il 13 ottobre. La scelta confermata della Coney Barrett ha scatenato la reazione del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden che ha lanciato dure accuse a Trump, rivolgendo poi un appello al Senato statunitense affinché la ratifica della nomina non avvenga prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. L'Inter soffre ma vince al debutto in campionato. La squadra di Conte supera e rimolta al Meazza la Fiorentina per 4-3. Vittoria anche per l'Atalanta sul campo del Torino, della Lazio su quello del Cagliari e del Benevento che passa a Marassi ai danni della Sampdoria. La sfida più attesa di questa seconda giornata che si completerà tra oggi e domani si giocherà stasera all'Olimpico tra Roma e Juventus. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Telegiornale della Sette. Dunque l'avete sentito dai titoli, è una vera e propria bufera sul presidente dell'Inps tridico dopo la notizia del fatto che il suo stipendio è stato più che raddoppiato con un decreto interministeriale firmato dal ministro Catalfo e dal ministro Gualtieri. Conte si dice all'oscuro della vicenda, attende chiarimenti, quindi prende un po' le distanze mentre l'opposizione naturalmente va all'attacco e chiede le dimissioni. Non ho preso nessun arretrato, 100.000 euro, un falso. Il decreto interministeriale prevede i compensi del CdA e del Presidente da quando il CdA si è insediato, ovvero aprile 2020. Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, finito al centro di una bufera politica e mediatica in seguito alla pubblicazione della notizia secondo la quale avrebbe beneficiato non solo di un aumento di stipendio, ma anche dei relativi arretrati. Un'informazione smentita anche dalla stessa Inps, che in una nota scrive «Il nostro istituto non ha corrisposto al Presidente Tridico compensi arretrati». Identica precisazione arriva anche dal Ministero del Lavoro. Dunque, dalle ricostruzioni possibili, ciò che risulta confermato è l'aumento dello stipendio anno di Tridico, che è passato da 62.000 euro a 150.000 euro. Le reazioni del mondo politico sono immediate, sia da parte della maggioranza, sia delle opposizioni. Il Presidente del Consiglio annuncia che ha già chiesto accertamenti sulla vicenda, e poi valuterò. Anche il Ministro degli Estri, Luigi Di Maio, ex capo politico 5 Stelle, e principale sponsor dello stesso Tridico, annuncia che ne parlerà direttamente con l'interessato. E Crimi dice su Tridico, fake news, più incisiva nella maggioranza la posizione di Italia Viva, che chiede spiegazioni sull'aumento di stipendio. Tito Boeri, sostengono i renziani, nominato dal governo Renzi, aveva uno stipendio di 103.000 euro, mentre Tridico, dopo questo maxi aumento, arriverebbe a 150.000 euro. Perché questo ulteriore aumento, soprattutto in una fase così delicata per il Paese? Molto più duro il centrodestra che compatto chiede le dimissioni di Tridico, come aveva già fatto per la gestione da parte dell'Inps delle misure di emergenza per il Covid. Invece di aumentarsi lo stipendio, attacca Salvini, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che l'aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta. Per Giorgia Meloni, gli amici dei grillini prendono stipendi spropositati, nonostante i risultati scadenti. E Maurizio Gasparri, di Forza Italia, chiede l'annullamento della delibera che aumenta i compensi del presidente dell'Inps e annuncia un'interrogazione parlamentare. Via Quotacento e decreti Salvini. Conte conferma l'abbandono dei due provvedimenti simbolo della Lega del suo primo governo, quello appunto con Salvini, vicepremier, assieme a Di Maio. Quotacento è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire ad un disagio sociale. Non è all'ordine del giorno il suo rinnovo, annunciato ieri in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. Il premio era spiegato che il governo pensa piuttosto ad una riforma delle pensioni per differenziare meglio i lavori usuranti. E anche decreti sicurezza targati Salvini saranno superati. Prima dell'estate è già stato fatto un lavoro intenso, ha sottolineato Conte. Vogliamo allargare il meccanismo di sicurezza e protezione per i cittadini e per i migranti stessi. È un progetto molto più ampio che cercheremo di portare al primo Consiglio dei Ministri utile, previste modifiche anche al reddito di cittadinanza. E veniamo adesso alla situazione Covid in Italia, all'andamento dell'epidemia. I contagi continuano ad essere intorno ai 1800, questo è il dato di ieri, con alcune regioni che hanno più contagi nelle ultime 24 ore, in particolare la Campania, la Lombardia, il Lazio, il Veneto. C'è grande preoccupazione per un incremento di questi casi. In un'intervista alla stampa oggi il Ministro Boccia ha detto che in linea di massima esclude un altro lockdown generale come quello della primavera scorsa e che è probabile la proroga dello Stato di emergenza e intanto invita la massima cautela. Intanto il CTS e il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso sul pubblico negli stadi. La prova del 9 ci sarà solo tra qualche giorno, quando si capirà il reale impatto della riapertura delle scuole sulla diffusione del Covid. Proprio con questa motivazione gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno bocciato le linee guida delle regioni che volevano aumentare gli ingressi negli stadi da mille spettatori fino al 25% della capienza. Il CTS ritiene che la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi rappresenta la massima espressione di criticità. Ma soprattutto gli esperti scrivono che la proposta della conferenza delle regioni potrà essere riconsiderata solo sulla base dei risultati del monitoraggio d'impatto della riapertura della scuola. Un chiaro messaggio che parte anche dai dati sul virus. Ieri hanno segnato un lieve calo ma da riportare al numero dei tamponi 3.000 in meno rispetto a venerdì. 1.869 positivi contro gli oltre 1.900 del giorno prima. 17 le vittime, venerdì erano 20. Ma da giorni ormai non diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari ma anche nelle terapie intensive, un lento ma graduale aumento. E poi c'è un altro elemento da considerare perché ormai non è più solo la Lombardia ad avere numeri alti anzi la regione con il numero maggiore di contagi è la Campania del presidente De Luca che ha già minacciato di chiudere i confini. Poi la Lombardia seguita da Lazio e Veneto, nessuna regione a casi zero. Con il virus che ormai si trasmette soprattutto in ambito familiare si sposta da una regione all'altra mentre diminuiscono i casi di importazione da altri paesi. E in primo piano rimane comunque anche alla questione della scuola. Dopo l'apertura sono ancora molte le questioni da risolvere come sottolineato ieri in una manifestazione. Vediamo. In piazza per la scuola, non solo sindacati ma anche molti precari, studenti, insegnanti, genitori. Dopo l'emergenza Covid si torna a manifestare perché a due settimane dalla ripartenza sono molti in odi da sciogliere. Mancano gli spazi per non costringere nessuno la didattica a distanza, i banchi, le assunzioni, visto che ci sono molti docenti precari a casa e le cattedre vuote con conseguenti orari ridotti. Un problema sia per gli insegnanti che per i genitori. L'organico ancora incompleto costringe infatti diversi istituti a prolungare l'orario ridotto fino al 2 ottobre. La CISD punta il dito contro il governo. Sostengono la scuola a singhiozzo. Mancano 250.000 insegnanti. Secondo il Ministero dell'Istruzione invece è stato assegnato circa l'80% dei posti che potevano essere coperti scorrendo le graduatorie provinciali. Le nomine dei supplenti, fanno sapere dal MIUR, verranno completate la prossima settimana. Poi si procederà all'organico Covid col personale in più necessario a far rispettare con presenza e distanziamento. E intanto preoccupano i 400 contagi che avrebbero già fatto chiudere 75 istituti scolastici. Numeri ancora provvisori. I primi dati aggiornati saranno resi pubblici la prossima settimana, fanno sapere dal Ministero. Ma come arginare i contagi? Le nuove linee guida prevedono due tamponi negativi perché ha contratto il virus prima di rientrare in classe. Mentre la Federazione Italiana dei Pediatri stigmatizza il sistema poco funzionale a causa di quei cinque giorni di tempo necessari tra la richiesta del test e l'arrivo del risultato. Così, dicono i medici, si rischia di bloccare il Paese. E i contagi continuano a correre, come ci racconta la notizia di questi giorni nel resto dell'Europa, in particolare in Spagna, in Francia. Anche l'Olanda adesso corre ai ripari. È particolarmente difficile anche la situazione in Gran Bretagna. Ieri ci sono stati scontri ad un corteo anti-lockdown. Nuovi finanziamenti in favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, maggior scambio di dati tra Paesi, anche un piano di prevenzione in cinque punti per affrontare eventuali epidemie future. Boris Johnson ne parla in collegamento da Londra all'Assemblea Generale dell'ONU e definisce pazzo chiunque si opponga all'utilizzo futuro di vaccini. Il Covid-19 continua a fare danni gravi in mezza Europa. Ad oggi sono più di 5 milioni e mezzo i contagiati e 234 mila i decessi. Oltre 40 mila sono il conto pagato dal Regno Unito che difende le restrizioni imposte in fatto di aggregazioni e aperture di locali pubblici. Chi le critica sono i NoMask, fronte avanzato della protesta contro i piani di contenimento del contagio messi a punto dal Governo. Ieri una manifestazione con 10 mila NoMask è finita con l'arresto di una decina di persone. Scontri a parte. Le prossime saranno settimane impegnative, dicono ancora da Londra i consiglieri scientifici di Downing Street. A questi ritmi in un mese i decessi nel Regno potrebbero arrivare a 100 al giorno e per un periodo imprecisato. Diminuisce di un paio di migliaia il numero di nuovi contagiati invece in Francia dopo un inizio di weekend complicato nelle ultime 24 ore 14.412 contro i 16 mila dei due giorni precedenti. Oggi vi ha nuove restrizioni compresa la chiusura di bar e ristoranti. Entro le 10 di sera 11 grandi città francesi, Parigi in testa, sono ora chiamate zone di allerta rinforzato. In Spagna, Governo centrale e Comune di Madrid sono invece in polemica sulla chiusura totale della capitale che l'amministrazione cittadina per ora sta escludendo. Preoccupa infine la recrudescenza di nuovi casi in Olanda dove da ieri sono ben 14. Le zone residenziali del paese in primis le grandi città messe sotto trattamento speciale. Nuove azioni di contenimento sono annunciate per lunedì ad Amsterdam, Rotterdam e Laia. I contagi non si fermano da ben tre settimane. Sono stati oltre 13.000 tra il 16 e il 22 settembre. Insomma, non sarà la seconda temuta ondata di coronavirus ma le somiglia davvero molto. Intanto negli Stati Uniti confermando le aspettative Trump ha nominato come giudice della Corte Suprema Amy Barrett. Adesso chiede al Senato di fare in fretta per la ratifica mentre Joe Biden, il suo sfidante, chiede esattamente il contrario che venga confermato dopo le elezioni presidenziali. Trump naturalmente attacca duramente il suo avversario. Judge Amy Coney Barrett Con una solenne cerimonia nel Giardino delle Rose il presidente Trump nomina la nuova giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett 48 anni, ultraconservatrice, anti-abortista arriva con tutta la famiglia, il marito e sette figli Trump ne esalta il curriculum donna di grande esperienza e devozione alla nostra Costituzione esorta poi il Senato a ratificare la nomina il più presto possibile fare subito e in fretta l'audizione della Commissione Giustizia del Senato inizierà il 12 ottobre dovrebbe durare quattro giorni e su questo si apre l'ennesimo scontro con il candidato democratico in una campagna elettorale infuocata ormai a poco più di un mese dalle elezioni e a tre giorni dall'atteso primo duello tv tra i due sfidanti la cerimonia è ancora in corso Washington e Biden tuona no la nomina deve avvenire dopo il voto del 3 novembre come peraltro espresso dalla giudice democratica Ruth Bader Ginsburg ultima volontà prima di morire pochi giorni fa ma Trump vuole una solida maggioranza politica la Corte Suprema la morte della Ginsburg sposta gli equilibri sei giudici di matrice conservatrice tre di nomina liberal con uno sbilanciamento senza precedenti nella storia recente dato di non poco conto anche in previsione di un possibile scontro sull'esito del voto che potrebbe finire proprio davanti alla Corte Suprema in serata Trump vola in Pennsylvania Biden è un politico disonesto e un pupazzo in mano alla sinistra radicale dice il Presidente con i fan che scandiscono lo slogan lock him up arrestatelo il riferimento è ai presunti affari della famiglia Biden in Ucraina e alla presunta agenda radicale qui non è più socialismo è vero comunismo conclude Trump intanto emergono nuovi particolari sull'attentato di venerdì scorso avvenuto a Parigi vicino alla vecchia sede della redazione del settimanale e satirico Charlie Hebdo è stato infatti rilasciato nelle scorse ore l'uomo fermato insieme al terrorista islamico il pakistano Ali Hassan subito dopo l'attacco con una mannaia contro due persone nelle prime ore la polizia francese pensava che gli autori dell'attentato fossero due invece a compiere l'attentato è stato solo Hassan l'altra persona fermata un algerino di 33 anni avrebbe fatto di tutto per fermarlo Ali Hassan pensava di aver colpito due giornalisti della rivista satirica e ha spiegato che le caricature del profeta recentemente ripubblicate da Charlie Hebdo erano per lui insopportabili salgono a nove le persone in stato di fermo per presunti legami con l'attentatore e siamo allo sport con il calcio e i quattro anticipi della seconda giornata di campionato incredibile Inter in una partita dove è sempre costretta a inseguire la Fiorentina trova un meritatissimo successo proprio sui titoli di coda il gol a botta fredda di Quamest travolge i piani di Antonio Conte dopo un rigore negato gli dal bar i nerazzurri trovano il pari nel recupero del primo tempo con Lautaro lui stesso a inizio ripresa dopo una solo in aria costringe Ceccherini a un clamoroso autogol ma l'Inter deve fare i conti con un certo Ribery che nello spazio di 6 minuti mette sui piedi di Castrovilli prima e chiesa poi i palloni che valgono il sorpasso ma nei minuti finali e nello spazio di soli 60 secondi Lukaku e D'Ambrosio regalano il successo ai nerazzurri che vincono 4-3 esordio scoppiettante anche per l'Atalanta che in svantaggio di un gol in casa del Torino ribalta la situazione grazie al tris firmato da Gomez Muri e Lea Tebur e dopo l'inutile gol con cui ancora Belotti accorcia le distanze a inizio ripresa De Ron sigla il definitivo 4-2 convincente esordio anche per la Lazio di Simone Inzaghi che spugna il terreno del Cagliari grazie alla rete iniziale di Lazzari e al definitivo 2-0 di Ciro Immobile e da un Inzaghi all'altro ecco lo storico successo del neopromosso Benevento che ribalta il doppio vantaggio della Sampdoria a Marassi firmato dalle reti di Quagliarella e Colli è la doppietta di Caldirola a cavallo dei due tempi a riequilibrare il match ma all'ottantottesimo che è in età non letizia con una stafilata dal limite segna la rete che regala i primi tre importantissimi punti alla squadra di Pippo Inzaghi la giornata odierna che verrà aperta alle 12.30 dallo storico debutto in Serie A dello Spezia opposto a Sassuolo verrà chiusa in serata dal big match Roma-Juventus tra i bianconeri Andrea Pirlo torna a disporre di Paolo Di Bala che dovrebbe però partire dalla panchina in casa Roma la fascia di capitano andrà di diritto a Edin Dzeko all'esordio contro quella che avrebbe dovuto essere la sua nuova squadra trasferta con qualche insidia per il Milan in casa del Crotone e ancora senza Ibraimovic posticipata alle 18 Napoli-Genoa la positività al coronavirus di Mattia Perin ha costretto ad effettuare i tamponi all'intera squadra rosso-blu weekend di motori questo brilla l'Italia della moto con Morbidelli in pole position nel Gran Premio di Catalogna Valentino Rossi in prima fila accanto a Quartararo affondano invece le Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Russia che vedrà la Mercedes di Hamilton partire davanti a tutti davanti a tutti nonostante tutto e forse persino nonostante se stesso la 96esima pole position di Hamilton una delle più assurde della carriera parole testuali è arrivata davvero a dispetto di tutto un giro veloce cancellato una chiamata ai box per un cambio gomme da lui non richiesto tre ore di attesa per un'investigazione poi risoltasi con un nulla di fatto una pole forse nemmeno davvero voluta fino in fondo da parte del sei volte campione del mondo consapevole che sul tracciato russo di Sochi i giochi di sci e al via favoriscono chi parte dietro tanto più considerando che al suo fianco scatterà un Max Verstappen in cerca di riscatto dopo il doppio zero di Monza e del Mugello e che in seconda fila ci sarà il compagno di scuderia Bottas che su questo circuito ha conosciuto la sua prima gioia nel 2017 partendo proprio da terzo in griglia ma anche una delle più cocenti delusioni quando nel 2018 fu costretto dal muretto Mercedes a cedere la posizione ad Hamilton Ad alimentare la perplessità del fuoriclasse inglese il peggior posto per partire dalla Pola ha chiusato Hamilton a un passo del record di 91 trionfi di Michael Schumacher c'è in effetti la statistica solo due volte su sei il Polman ha poi vinto la gara e ne sanno qualcosa anche Vettel e Leclerc primi al via nel 2017 e lo scorso anno ma delusi alla fine in un GP che ha sempre visto trionfare la Mercedes anche se in quanto a delusioni nulla in Ferrari è paragonabile al disastro di questa stagione ieri errori di strategie e di comunicazione non impedita un fuoribondo Leclerc di andare oltre l'undicesimo tempo mentre le immagini di Vettel che raccatta i cocci della sua SF1000 dopo essersi schiantato durante la Q2 per eccesso di foga sembrano quasi le pitafie su un'annata che sembra solo poter andare peggio gara dopo gara dietro quasi a tutti nonostante tutto ed era l'ultimo servizio per questa edizione il telegiornale torna alle 13.30 adesso le previsioni del tempo con Palo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pennacchioli vi auguro una buona domenica Grazie a tutti